Un saluto cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino. Ecco le notizie di Globus Magazine. I Procol Harum con uno show allo Royal Hall di Londra. A Roma passioni concorsi di corti teatrali. Il soprano Chiara Taigi, Io sto con le donne. Swim Easy al Caffè del Teatro Massimo con il Piscopo Trio. Oculisti in missione dalla Sicilia all'America Latina, ponte umanitario per garantire il diritto alla salute visiva. A Water Shade of Hell festeggerà 50 candeline il prossimo anno e i Procol Harum festeggeranno l'evento alla grande con uno show londinese nel quale proporranno anche brani del loro vasto repertorio conosciuto in tutto il mondo. Una musica magica che trae spunto da diversi filoni tra cui blues, rugby, soul, barocca e classica e annuncia alla band non mancheranno le sorprese. Il brano è stato pubblicato nel 1967 e è stato scritto da Gary Brooker, Kate Raid e Matthew Fisher. Prodotto da Danny Cordell e distribuito dalla Derem Records. Vediamo il contributo video. Il brano è stato pubblicato in tutto il mondo. 2016 parte la seconda edizione di Passioni. Il concorso di corti teatrali promossa dall'associazione Il Rino Ceronte al Teatro Le Sedie di Roma. Il concorso vede quest'anno quattro spettacoli finalisti ed inaugura la ricca stagione dell'unico teatro sito nel quartiere Labbarò di Roma, giunto quest'anno alla settima stagione. L'obiettivo di questa iniziativa, fortemente voluta dal fondatore del teatro Le Sedie, è quello di offrire alle compagnie uno spazio dove esporre i propri lavori, favorendo la diffusione e il confronto tra i nuovi soggetti del teatro italiano. Due le giurie che valuteranno i lavori. La giuria popolare è una giuria di esperti, composta da autori, attori, produttori, registi e operatori dello spettacolo, preseduta dall'attrice Gioia Montanari. Chiara Taigi, soprano di fama internazionale, è tra i personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno contribuito ad incidere positivamente alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica a sostegno dell'iniziativa Io sto con le donne, la prima manifestazione nazionale organizzata dagli uomini contro il femminicidio. Una fiaccolata che avrà luogo domenica 18 settembre a Taormina, ideata dall'associazione Traormina Forum, preseduta da Alessandro Cardente con il sostegno del Consiglio Comunale della Cittadina Turistica. Un'iniziativa davvero significativa, volta a scuotere le coscienze di questo paese per proteggere la libertà del genere femminile, sempre più frequentemente vittima di sopprusi, offese ed umiliazioni di ogni tipo, sostenendo ogni forma di rispetto nei suoi confronti. Attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori Gershwin, Rogers e Ellington, che attraverso la struttura di canzone hanno finito per scrivere la storia stessa di un'intera epoca. È il trio composto da Tony Piscopo, voce, Sergio Munafo, chitarra e Riccardo Lobue, contrabbasso. Musicisti esibiti di frequente a manifestazioni anche di livello nazionale e internazionale, che domenica 11 settembre sarà al Caffè del Teatro Massimo a Palermo. Tra le voci maschili dal jazz, assieme non numerose delle femminili, quelle di Tony Piscopo, per esempio, è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale. Dalla Sicilia al Nicaragua, con l'obiettivo di formare oculisti in grado di fornire alla popolazione servizi di riabilitazione e prevenzione delle malattie oftalmiche. Lì, nell'America Latina, dove la trappola della povertà e dell'arretratezza, si snoda tra villaggi di capanne e strade sterrate. Il poliombulatorio centro-europeo di Acicastello, in qualità di partner ufficiale da tre anni, porta avanti il progetto Vision, realizzato in collaborazione con l'Associazione Solidarietà Internazionale. Quest'anno sono stati quattro i medici del PCE, insieme a quattro volontari, che ad agosto hanno preso il volo da Catania, portando in valigia farmaci, lenti intraoculari, materiali chirurgici e usili per pazienti. Oltre a Marco Zagari, l'equip del poliombulatorio centro-europeo era composto dagli oculisti Michele Enrico Bellino, Sara Macor, Carlo Rapisarde da Valentina Cammareri, Giovanna Caramico, volontaria e membro del Consiglio Direttivo, Giorgio Vacirca e Francesco Colantonio. Le notizie di storia accadde oggi 8 settembre. Era il 1449, battaglia della fortezza di Tumu, i mongoli catturano l'imperatore cinese. Era il 1796, le guerre napoleoniche, battaglia di Bassano, le forze francesi sconfiggono le truppe austriache a Bassano del Grappa. Era il 1870, inizia la presa di Roma, 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Cadorna convergono sulla città. Era il 1888, a Londra viene ritrovato il corpo della seconda vittima di Jack lo squartatore, Annie Chapman. Era il 1930, la 3M inizia a commercializzare lo scotch o meglio il nastro adesivo. Era il 1951, trattato di San Francisco. A San Francisco 48 nazioni firmano un trattato di pace con il Giappone, mettendo formalmente fine alla guerra del Pacifico. Era il 1991, la Repubblica di Macedonia dichiara l'indipendenza della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Era il 2009, terremoto di magnitudo 6.0 in Georgia. Il proverbio del giorno, l'amicizia è l'unico cemento capace di tenere insieme il mondo, di Woodruff Wilson. Da Globus Television è tutto. Grazie a tutti.